Il principe William, da bravo padre, sta cercando di far vivere ai figli una sorta di normalità. Eccolo allo stadio a tifare la sua squadra del cuore con il figlio più grande, George, che in questi giorni è in vacanza dalla scuola. Per padre e figlio è stata la prima uscita pubblica dopo l'annuncio della malattia di Catherine. Sicuramente qualche ora di leggerezza avrà fatto bene a entrambi. Questi giorni di vacanza sono stati importanti per la famiglia, che aveva davvero bisogno di tempo e di privacy per raccontare ai figli la malattia della mamma, ma soprattutto per rassicurarli. Nel frattempo nel Regno Unito cresce la voglia di rivedere l'amata principessa. È lei nel cuore dei sudditi. Un nuovo sondaggio di YouGov ha rilevato che tre quarti dei britannici, il 76%, ama Catherine, amore che è cresciuto di ben sei punti in percentuale rispetto al sondaggio di inizio anno. William slitta al secondo posto con un buon 73% è a sorpresa, sicuramente per il gran lavoro che ha fatto. Nella classifica segue la zia, la principessa Anna, apprezzata dal 71% dei sudditi per il suo grande impegno e per la sua costante presenza. Ma non finisce qui, migliora la popolarità di Harry e Meghan, forse per il lento riavvicinamento dei Sussex verso Londra e i Windsor. Divide ancora la regina Camilla, ferma al gradimento al 50%. 50%. 50%.